leone leone dove ti sei cacciato ormai è tutto inutile qui non c'è mi avevi detto che non si sarebbe perso e che sarebbe tornato a casa ma non è vero non avrei mai dovuto lasciarlo da solo non dobbiamo arrenderci leone è scappato altre volte ma è sempre ritornato coraggio adesso andiamocene a casa sta tranquilla piccola magari è già lì che ci sta aspettando guarda una moneta io vorrei tanto che il leone tornasse ti prego leone mamma mamma ha funzionato ha funzionato leone è nel pozzo leone presto mamma chiamo subito sam il pompiere leone nel vecchio pozzo sembra che leone sia caduto nel vecchio pozzo avverta il soccorso alpino signore dica a tom di raggiungerci sono felice di vedere che il soccorso alpino si mobilita anche per un gatto ma certo bronway pensavo che lo sapessi che noi non ci occupiamo soltanto delle persone eccoli la penny ciao tom adesso avremo bisogno del tuo verricello non c'è problema bene tom noi ci siamo d'accordo sam povero leone fantastico sta funzionando sta funzionando il balenottero sta tornando in alto mare adesso posso venire al timone no mi dispiace Norman adesso sta attento agli scogli ce n'è uno a sinistra papà voglio dire a babordo è grosso e non so se è un scoglio potrebbe essere la mamma balena ma che cosa stai facendo Norman ti avevo detto di no fermati la balena l'abbiamo colpita oh Norman ma perché non mi hai ascoltato io volevo soltanto prenderla per vincere la gara papà papà stiamo imbarcando acqua deve esserci una palla ci mancava solo questa brazzo di segnalazione Charlie deve essere nei guai sarà meglio che chiami sei miei pompieri oh santo cielo Charlie è in difficoltà con la sua barca soccorso in mare la barca di Charlie è in difficoltà imbarca acqua sembra che ci siano anche dei bambini a bordo adesso andremo a fondo aiuto aiuto abbandonare la nave basta devi cercare di calmarti Norman la prima regola in mare è evitare il panco dai adesso respira a fondo guardate ecco Sam e Penny Sam e Penny Norman respira a fondo ho detto scusi ci sono feriti? no però la barca ha una palla comunque è tutto a posto finché continuo a pompare fuori acqua bene adesso venite ragazzi Sara James no Norman tu resta a bordo e aiuta Charlie cosa? ma non... va bene allora resto grazie Norman bel lavoro ragazzo adesso ti prendiamo a traino ma dovremo guidare insieme quel palenottero verso il mare aperto d'accordo? si Norman e io ce la caveremo vedrete radar? e chi c'è con lui? oh no qui pronto intervento che cosa posso fare per lei? la prego è un'emergenza chiamate subito Sam il pompiere per favore Norman price precipitato sulla scogliera questa è una missione per il soccorso alpino io prendo l'elicottero Sam ci vediamo lì eccomi Sam sono qua sotto sta tranquillo Norman adesso tu dovrai fare molta attenzione a tutto quello che ti dirò d'accordo? va bene pronto Tom qui ci servirà una doppia imbracatura ricevuto tieniti pronto la sto già calando dammi a sentire Norman adesso io ti passerò un'imbracatura presa ora devi farla scivolare sopra la testa in modo che ti finisca sotto le ascelle io ho capito Sam ma lei si occupi di radar per favore d'accordo Norman adesso devi indossarla come ti ho spiegato hai capito Norman? mi dispiace io pensavo di sapere quello che facevo ma non era così non importa sta tranquillo tiraci su Tom ecco qua Norman una bella cioccolata bollente per riscaldarti siamo stati fortunati che ci fosse anche radar lui è un cane molto intelligente ha cercato di impedire a Norman di oltrepassare il cartello mi scusi Sam lei ci aveva avvertito ma... allora l'avete vista poi l'aquila reale? no in realtà io non credo che ce ne siano in questa zona guarda il tuo amichetto Tom sembra di sì wow io non avevo mai visto un uccello così da vicino guarda come muove le ali radar l'hai mandato via radar gli ha appena fatto un favore quel uccellino aveva bisogno di tornare alla natura non certo di restare qui con noi certo che il nostro radar è veramente un cane molto intelligente allora adesso qualcuno viene a salvarmi oppure no? sto arrivando Sara non riesco a muovermi aiuto non si preoccupi c'è Norman Man qui Norman smettila di sognare tu non sei un vero supereroe io corro a chiamare i semi il pompiere aiuto un incidente sulla spiaggia c'è stato un incidente sulla spiaggia ci vorrà la guardia costiera prendi la lancia con Penny non preoccuparti papà sempre il pompiere starà per arrivare aiuto eccolo è arrivato è arrivato urrà urrà per Sam che cosa è successo Charlie? ciao Sam ecco niente di serio ho solo urtato uno scoglio e sono caduto in acqua sono rimasto impigliato in una nassa ma posso farcela? oh no adesso mi tuffo a dare un'occhiata certo dovevi andare veloce quando hai urtato contro lo scoglio non lo so io volevo solo fare l'eroe ecco questa è quella che si chiama un'azione da veri eroi urrà urrà evviva fantastico bell'amore guarda leone lo vedi il tuo eroe è in tv io mi sento così in imbarazzo mai quanto me quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno aspetti adesso viene la parte migliore guardate salutite Norman Man sono un eroe anch'io Norman e con questo Sam ha fatto tre salvataggi in un solo giorno ma quella è la mia tenda del bagno Norman Norman ecco fatto io ho finito ci vediamo più tardi devo andare da Mandy cerca di tornare in tempo per fare la seconda lavatrice Norman buongiorno Alvis buona giornata buongiorno Dillis mi serve uno spazzolone shhh questo rumore lo senti anche tu? oh certo sembrerebbe come una cascata o forse... la lavatrice se fossi io l'infermiera a quest'ora starei facendo il corso e non starei qui a stirare tutta questa roba sì dottore ha ragione questa maglietta effettivamente ha un serio attacco di bottonite e io ho paura che dovrà essere operata al più presto infermiera Flood pronto soccorso Helen? che ti è successo alla voce? c'è Michael? ah 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 sono io oh Mike vieni subito Norman mi ha rotto la lavatrice non dire altro Dillis eccomi sto arrivando lo sapevo che avrei avuto da fare Elvis che stai facendo? sto provando il mio nuovo spazzolone e comunque sappi che d'ora in poi camminerò solo in avanti così non ci saranno altri incidenti no però ci saranno le impronte ma perché deve essere sempre tutto così complicato? qui purtroppo c'è bisogno di una nuova cinghia Dillis devi averla sovraccaricata non sono stata io è stato Norman ecco perché non gli chiedo mai di aiutarmi ciao Dillis salve salve Mike Norman che c'è adesso? l'ho fatta la lavatrice? no tu hai solo rotto la lavatrice spero sarai contento e adesso dovrei chiedere gentilmente a Mike se possiamo usare la sua cosa? ma io ho divertiti Norman chissà se Sara e James vorranno fare skateboard ciao Dillis ciao Dillis dov'è Norman? oh ecco oggi lui ha preferito andare sullo skate ma guardate un po' che cose mi ha regalato ma che cos'è quello? io direi che un semplice tappo di plastica inchiodato su un pezzo di legno James non essere scortese per favore questo è un porta candela non ti dispiacerà se lo uso vero? no di certo Dillis al contrario ma figurati la festa della mamma è un vero strazio tutti i miei amici sono con le loro mamme e andare sullo skate da soli non è affatto divertente grazie per l'invito Trevor è un'idea stupenda mangiare l'umedi ops scusate attenta Dillis no per favore ora cercate di restare calmi e uscite tutti al più presto dal locale forza un incendio alla trattoria del pesce intero? un incendio alla trattoria del pesce intero? ho fatto in fretta stavolta non è un falso allarme Sam ha chiamato Charlie in persona chissà dove sarà l'incendio Penny ed Elvis voi due prendete l'idrante io controllo che non sia rimasto nessuno dentro d'accordo Sam mamma 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 Norman stai indietro sì ma la mia mamma è lì dentro no tranquillo lei è laggiù Norman Norman oh mamma ho avuto tanta paura credevo che tu fossi in pericolo oh Norman ma allora mi vuoi bene veramente ma sì certo tu sei la mia mamma mi dispiace tanto per il portacandela mamma non credevo che potesse essere pericoloso comunque adesso ti ho fatto un regalo molto più sicuro un portacarte mi ci è voluto tanto tempo per decorarlo allora ti piace oh Norman tesoro questo sì che è un regalo veramente stupendo e tu sei il mio angioletto oh mamma visto? è perfettamente sicuro e adesso tocca a me ma è andato a finire contro il muretto Norman questo perché i manichini non sanno frenare mi dispiace Trevor stamattina avevo messo dei grossi cunei sotto le ruote e non riesco proprio a capire che fine abbiano fatto allora pronti? via! e adesso ecco Norma Price che fa in testa alla corsa no! stai attento al muretto Norman usa i freni quali freni? aiuta! Norman! 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 aiuta! 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 Vado a chiamare Sam il pompiere Norman Price caduto in acqua dal molo Vieni, al porto Sam Norman Price è caduto in acqua con un go kart Vado subito signore Aiuto! Sam! Sta calmo Norman, ci siamo noi adesso, non preoccuparti Cerca di aggrapparti alla mia mano Bene, stavolta devo ammettere che hai veramente superato te stesso Hai quasi provocato un incidente stradale e hai perfino rischiato di annegare Ora tutto questo non sarebbe mai successo se avessi aspettato che Mike ti avesse aiutato a costruire il tuo go kart Mi dispiace Sam E chiedo scusa a tutti Non lo farò più, ve lo prometto Questa volta non basterà soltanto chiedere scusa, Norman Adesso dovrai anche cercare di rimediare ai danni E ce n'è un'altra Guarda questa quante grande Queste le abbiamo viste prima Io sono una macchina raccoglitrice Su, facciamo presto Ehi, lasciatene anche per me Ma tu, Norman, ne hai già prese tante Noi lavoriamo insieme Va bene, adesso vado a cercare un altro scoglio prima che quei due li ripuliscano tutti Aiuto! Ascolta, Elvis Quegli attrezzi sono molto utili nel nostro lavoro Ma non possono essere usati in qualunque emergenza Ho capito Dai, Norman, tira al mio 3 1, 2, 3 E adesso? La marea sta cominciando a salire Dobbiamo trovare il modo di liberarti il piede il prima possibile Avanti, tira, Norman Tira! Io sto tirando Ma non viene via Ma non possiamo lasciarti qui Che cosa possiamo fare adesso? Chiamami il compiere Chiamami il compiere Qualcuno è rimasto incastrato tra gli scogli? In spiaggia, Sam! Qualcuno è rimasto incastrato e la marea sta salendo! Prendi le pinze idrauliche, Elvis! Non si sa mai! Sì Cos'è successo, Charlie? È rimasto incastrato E io ho già provato di tutto per liberarlo No, non proprio tutto Già, hai ragione C'è ancora un'ultima cosa da tentare Puoi cercare di sciogliere i lacci, Norman? Io credo di sì Evviva! Grazie davvero, Sam il pompiere Avrei dovuto pensarci io Ehi, un momento! Ma dove è finito il mio secchio? Ti ricordi dove l'avevi lasciato? L'ho perso Coraggio, ora andiamo prima che la marea ci trascini via Aspettate! Qui c'è la mia scarpa Tranquillo, adesso ci penso io Grazie, Elvis Hai salvato la mia scarpa È a questo che servono le pinze idrauliche A salvare le cose Tenetevi forte là dietro! Svelti, uscite tutti dalla porta posteriore Così bravi E mantenete la calma, mi raccomando Certo che questa è stata proprio una strada panoramica State tutti bene? Io credo di sì Magnifico, a questo punto non resta che fare marcia indietro E tornare sulla strada Signore Evans! Guardi! Tu dovresti essere a letto Qui ci serve aiuto Dobbiamo chiamare subito Sammy il pompiere Magari Purtroppo il cellulare è rimasto sull'autobus Adesso lasciate fare a me Mike ha dimenticato il suo nella cassetta degli attrezzi L'autobus di Trevor sta per precipitare dalla scogliera Ma è un vero disastro Alla scogliera! L'autobus di Trevor sta per precipitare Non c'è tempo da perdere Sam! Qui i vigili del fuoco di Pontifandi a soccorso alpino Abbiamo bisogno di te Tom In effetti è in una brutta posizione Ma per fortuna quel costone sembra abbastanza stabile Ricevuto stiamo arrivando Arriva Sammy il pompiere Trevor c'è ancora qualcuno a bordo? No Sam siamo tutti qui È soltanto il mio vecchio autobus che è nei guai E anche Norman Coraggio ora sbrighiamoci Elvis il cavo d'acciaio Allontanatevi voi Io inizio a tirare Sam fa presto La roccia inizia a cedere Ricevuto Tom Grazie Sam Grazie 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 Hurra! 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 Le mie gambe sono rimaste incastrate Oh no! È tutto inutile Ormai sono bloccato qui Aiuto! Aiuto! Oh! Ma è James Aiuto! Aiuto! Oh! No! Ma che cosa ci fai là sotto? Noi volevamo vedere quello che c'è dentro E poi la cassa mi si è rovesciata addosso Ma lo sapevi che poteva essere pericoloso Papà ce l'aveva detto No, hai ragione È solo colpa mia L'ho convinto io Beh, comunque sia L'importante adesso è tirarlo fuori da lì sotto È inutile È troppo pesante per noi due Voi non sentite niente? È un picchiettio Io vado a chiedere aiuto No, ti prego Non lasciarmi qui Sara Resta con lui Andrò io a chiedere aiuto Che cosa? Avvestata una cassa sulla spiaggia? Ticchettio sospetto! Oh! James Jones è rimasto incastrato sotto la cassa Alla spiaggia Sam E alla svelta C'è una persona incastrata sotto una cassa Ci dirigiamo subito lì signore Potrebbe intanto avvertire Penny di raggiungerci subito via mare? Sì, ci penso io Addio giornata tranquilla Oh, eccoli là Penny chiama Sam il pompiere Dicevo Penny Riesco a vederli Sam Sono appena dietro il promontorio Grazie Penny, stiamo arrivando Sam Ho tanta paura Sta tranquillo James Adesso ci siamo noi Sara Voglio che tu torni al ristorante con Mandy Sara Scusa se ho detto che non eri divertente La prossima volta giocherò con te Lo prometto Tu cosa credi che sia Sam? Non ne ho la più pallida idea Comunque facciamo alla svelta Adesso noi cercheremo di sollevare delicatamente la cassa D'accordo? Ce la fai James? Sì, ti sono liberato Qualunque cosa sia il rumore sta aumentando Lo sai che cosa sembra? Sveglie Una cassa di... Una cassa di sveglie Ecco, guarda un po', hai fatto entrare anche una mosca Stai lontana dalla mia limonata Lasci fare a me, signore Elvis Oh, mi scusi, signore È stato solo un incidente Ma signore Guarda, eccone uno L'ho visto prima io Quello non è un falco pellegrino È un gabbiano Io so benissimo Com'è fatto un gabbiano E quello era un falco pellegrino Dai, fammi vedere Adesso è arrivato il mio turno con il binocolo, Sara No, non è vero È inutile Non ci sono Dobbiamo salire ancora più in alto Ma quel falco pellegrino Stava volando verso la vallata Proprio come ha detto Tom Quello era un gabbiano, Norman Coraggio, tutti a bordo, ragazzi Ma perché Trevor Pensa sempre di sapere tutto? Oh Ma voi non avete caldo Perché non si possono aprire i finestrini? Perché il climatizzatore sarebbe inutile con i finestrini aperti A me sembra che non funzioni comunque Questo è il problema Il climatizzatore funziona bene E allora perché il lago del termometro è andato sul rosso? Oh Guardate, lì esce del fumo Oh Oh no Scendete tutti Svelti Voi adesso state indietro Io voglio fare un controllo No Non bisogna aprire il copano Entrerà l'aria Norman Io so bene quello che faccio Oh no Oh Oh Trevor Dobbiamo chiamare subito Sammy il pompiere Un autobus in fiamme? Oh no C'è un autobus in fiamme sulle colline di Ponti Pandi Allora deve essere quello di Trevor Oggi ha portato lassù tutti i ragazzi Beh, in questo caso non c'è tempo da perdere Ho 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 Sì, sì. Deve esserci un incendio qui intorno. Sento puzza di bruciato. Bene, signore. Ho appiccato l'incendio. L'esercitazione può iniziare. Oh, magnifico. Allora diamo l'allarme. Coraggio. Ora diamoci da fare, Elvis. Emergenza alla torre di addestramento. Un incendio ha intrappolato una persona all'ultimo piano. Stavolta vi serviranno Jupiter e Venus, ragazzi. E buon lavoro. E buon lavoro. Ora non preoccuparti, Dolly. Ti porteremo in salvo tra un secondo. Diamo un'occhiata alla spiaggia. Aspetti. Oh, no. Guardi, la torre è d'addestramento. È Norman. Aiuto. Aiuto. Guarda in cima la torre, Sam. Ma quello è Norman Price. Che cosa ci fa lassù? Aiuto. Elvis, tu tieni sotto controllo le fiamme. Penny, abbassa gli stabilizzatori e alza la scala. Non preoccuparti, Norman. Sam, sta venendo a prenderti. Oh! Oh! Che cosa vi avevo detto? Lo sapevo che Norman era in pericolo. Presto, Sam. Mi porti via da qui. Oh! I miei biscotti! Urrà! Arriva! Bravo! Allora, sentiamo un po'. Vincere una scommessa è diventato forse più importante della tua stessa sicurezza? Ovviamente no, Capitano Steele. Avremmo dovuto pensarci prima di nasconderci. Oh! Ma adesso sono io il campione assoluto di nascondino di Ponti Pandi. Ascoltami bene. Io ti consiglio di andarti a nascondere a casa per un po'. Sì. E festeggerai mangiando i bastoncini che avresti dovuto mangiare due ore fa. D'accordo, mamma. Ma che cos'hai, Elvis? Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ma la mia povera Dolly purtroppo non ce l'ha fatta. Sei sicuro? A dire la verità, Norman non è stato l'unico che ho portato fuori da quell'inferno. Guarda un po' dietro di te. Dolly! Sei salva! Sei veramente un grande piccolo eroe, Sam. È solo il nostro lavoro, Elvis. È quello che siamo addestrati a fare. Bronwyn, hai qualcosa con te che appartenga ai gemelli per farlo annusare a Radar? Soltanto i loro giubbotti. Coraggio per noi. Ora annusali bene. Avanti, Radar. Abbiamo bisogno di te. Noi dobbiamo trovare James e Sarah. Bravo, Radar! Guardate, c'è l'elicottero. Tom! Oh! Ecco la roccia che avevi trovato prima. Sì, e lì c'è il pozzo. Ce l'abbiamo fatta. Io sento un cane abbaiare. Sam! Sam! Ho avuto tanta paura che quel fulmine vi avesse colpiti. Scusa se siamo rimasti indietro, mamma, ma non ti abbiamo proprio vista andare via. Certo, scommetto che eravate troppo impegnati a gareggiare tra voi, non è vero? Sì, ma poi abbiamo collaborato per poter uscire dalla foresta, grazie all'aiuto di Sam. E non dimentichiamoci di Radar. Ehi, ma l'avete visto? Ora Radar non ha più paura, gli è passato tutto. Io l'ho sempre detto che è un bravo cane da salvataggio. A proposito, Sam, ho qui un reparto per te. In realtà è da parte di tutti e due. Ecco, così va bene. Niente più competizioni tra voi. Comunque io sono sicuramente la migliore a non competere con te, James. No, no, sono più bravo io. Stavo solo scherzando. A chi lo dici, Elvis? Lo sai, Sam, dopo la colazione il pasto che preferisco è proprio il pranzo. Anch'io lo sai? Sto morendo di fame. Ehi, ma quello è il Capitano Steel. Che cosa starà facendo? Sta cercando come al solito monete antiche con il suo metal detector. Lo sai? Io ho tantissime monetine nel mio salvadanaio. No, Elvis, ma che dici? Queste sono vecchie di centinaia di anni e possono valere moltissimo. Lui viene qui quasi ogni giorno. Ma guarda! Diamo un po' un'occhiata. Cosa abbiamo qui? Interessante. Ha trovato qualcosa, signore! Chi lo sa? Ormai è persa. Mi scusi. Vuole che le dia un passaggio? Ormai è quasi ora di pranzo. No, grazie, Elvis. Oggi ho voglia di un buon pesce. Credo che andrò al ristorante. Buon compleanno, mamma. Io spero tanto che ti piaccia. Certo che mi piace. È bellissima, tesoro. Ti sta bene sul gilet che papà ti ha fatto ai ferri. E tu che per tre settimane continuavi a dirmi che avevi le reti della barca da riparare. Coraggio, James. Ora tocca a te. Dov'è il tuo bigliettino? Ma quale bigliettino? Non crederai che voglia regalare a mamma solo un ridicolo bigliettino? No, io voglio regalarti qualcosa di speciale, come hanno fatto papà e Sara. Qualcosa di davvero speciale. Ed ho già un'idea. Scusatemi, ma io adesso devo proprio andare. I pesci non si peschiano da soli. Beh, allora devo andare anch'io. Devo prendere il tuo regalo speciale. A dopo, mamma. Ciao. Io sono una mamma davvero molto fortunata. Non so proprio cosa posso regalare a mamma. Io non sono bravo a fare le cose come papà e Sara. Oh, come stai, James? Mi scusi, Capitano Steel. Ma cos'è quello? Ah, questo è il mio metal detector. Io lo uso per trovare monete preziose sepolte nel terreno. Ha forse detto monete preziose? Preziose? Esatto. Vedi, James? Da qualche parte a Pondipandi ce n'è un mucchio che aspetta soltanto che qualcuno riesca a trovarle. Oh, sì. Ed io scommetto che questo sarebbe un regalo veramente speciale per qualcuno, eh? Può prestarmelo. Ci starò molto attento. La prego. Sì, posso anche fartelo provare mentre sono a pranzo. Ma tu stai lontano dalla scogliera perché è molto pericolosa. D'accordo, stia tranquillo. Mi dispiace davvero tanto di aver fatto perdere quella moneta al Capitano Steel. Ma non sai neanche se quella era antica, Elvis. Ma potrebbe esserlo. Eppure Sam deve esserci un qualche modo per rimediare. Le monete sepolte sono difficili da trovare. Non se sai esattamente dove cercarle, Penny. Se l'allarme inizia a suonare, Sam sa sempre cosa fare. Se nei tuoi ti caccerai, sempre Sam tu troverai. Su forza chiama Sam.